Buongiorno ragazzi, oggi è martedì 22 febbraio, io sono in macchina, l'ho appena accesa, cos'è meno si riscalda un pochino e sto andando a casa nuova. I lavori sono finiti, non siamo ancora entrati, però stiamo sistemando tutti gli scatoloni. Dopo vi racconto come è stato questo mese di fuoco, perché tra gravidanza e tutto è stato veramente un mese di fuoco e vi anticipo già che se potessi tornare indietro io comunque non rifarei più una cosa del genere, soprattutto in gravidanza perché è veramente dura, perché l'ho ancora tuttora, non l'abbiamo ancora finito, manca praticamente ancora metà degli scatoloni da sistemare e poi devi dare una pulita generale e poi finalmente possiamo entrare in casa. L'unica cosa che è a posto e che abbiamo voluto sistemare subito è stata la cameretta. Oggi non vi farò vedere tutta la casa, perché poi vi farò l'home tour completo. Io mi scuso anche se sono sparita in questo mese perché avrei voluto girare le clip e il video sui lavori, come veniva comunque il pavimento, poi step by step, ma i lavori sono andati benissimo, quindi non ci sono stati problemi di questo tipo, o intoppi o qualcos'altro. L'unica cosa è che appunto non riuscivo a entrare fisicamente in casa e anche quando mi hanno portato i mobili, praticamente avevo un caos in casa che era impossibile veramente filmare e quindi ho preferito saltare quella parte anche se vi avevo promesso comunque che l'avrei fatto. Ero quasi anche di troppo io nel star lì a vedere come facevano i lavori e a montare i mobili, perché calcolate che loro sono stati circa tre settimane abbondanti da soli in casa, i muratori, per poter fare pavimento e tutti i lavori che dovevano fare. Quindi io andavo giusto se loro avevano bisogno. E stessa cosa i mobili, non potevo star lì perché comunque non li abbiamo montati noi, ma sono stati montati da Ikea, perché me lo dico, ho fatto tutto l'arredamento Ikea, e quindi capite che non potevo essere lì d'intralcio. Comunque oggi andiamo a casa perché devono venire a sostituirmi un'anta dell'armadio che l'ho trovata difettosa. Devo anche sistemare alcuni scatoloni, sistemare il bagno, perché anche il bagno è grande, perché è finito. E quindi niente, vi porterò con me in questa giornata. Allora ragazzi, sono in casa nuova, sono appena arrivata. Mi scuso veramente la mia faccia, però sono veramente stanca. E quello che vi dicevo prima in macchina è che non farei mai più un trasloco del genere e dei lavori del genere in gravidanza. Quindi se state programmando di traslocare e siete incinte, aspettate ragazze. Perché diciamo che la cosa è vera. Quando poi si deve sistemare, si deve fare, spariscono tutti. Quindi poi bisogna fare tutto da soli. Essendo comunque che sono a metà dell'ottavo mese, e anche per questo mi scuso il fiatone che ho. Però essendo a metà dell'ottavo mese, capite che le mie forze sono quelle che sono. E comunque sto facendo un po' per volta, anche per questo ci stiamo mettendo comunque un po' più del dovuto. Però essendo che Roby lavora comunque tutto il giorno, mia mamma comunque mi aiuta per quello che può. Mio papà mi sta facendo praticamente tutto lui in casa, a livello di prese, piuttosto che appende lampadari, montaggio del bagno piccolo. Cioè lui mi ha aiutato veramente tantissimo. Però appunto stiamo facendo così un po' per volta. Perché appunto io durante il giorno, comunque la maggior parte delle volte, sono da sola. E non riesco a fare tantissimo, anzi sto già facendo troppo, però sicuro. E comunque sono soddisfatta perché sto vedendo comunque la casa prendere forma. E mi piace tantissimo come è venuta. Adesso sono qua. Devo aspettare quelle dell'IKEA che arriveranno dalle 9 a mezzogiorno a cambiarmi l'anta. Io spero che arrivano a un orario decente e non a mezzogiorno in modo che riesco anche ad andare a casa. Anche perché oggi Mattia non l'ho mandato all'asilo perché aveva un pochino di tosse, qualche linea di febbre. E quindi ho preferito tenerlo comunque a casa. E niente, quindi io volevo sistemarmi il bagno, come vi ho detto, perché mio papà ha finito di sistemarmelo. E mi ha messo il silicone, insomma tutte le cose che andavano fatte. L'unica cosa che non è pronta del bagno grande è il bordino della vasca, che l'abbiamo dovuto praticamente pulire tutto. E però per il resto è agibile. Quindi io la volevo lavare e cominciare a sistemare anche nei cassetti. In modo tale da portarmi avanti. Però oggi credo di fare solo quello. Perché ieri mi sono pulita comunque tutta quanta la cucina. E ho sistemato tutti gli scatoloni della cucina. Oggi mi dedico al bagno. Come vi dicevo la cameretta è già finita. E quella è una cosa che avevo premura a fare più che altro perché essendo a metà dell'ottavo mese tutte le cosine di Gabriele comunque ci tenevo che fossero comunque sistemate e anche i giochi di Mattia. Così quando veniamo qua lui ha già tutto pronto e a posto. Quindi ragazzi, vi stavo dicendo anche della gravidanza perché da un po' che non registro un vlog. Che comunque sono alla 34esima settimana. In teoria mancano ancora 6 settimane. Dico in teoria perché dall'ultima ecografia che ho fatto il bambino era 2,7 kg. E l'ho fatta, calcolate, settimana scorsa. Domani ho l'ecografia invece con la mia ginecologa. Quella di settimana scorsa era quella della crescimento. Domani ho l'ecografia con la mia ginecologa e valuteremo il da farsi. Comunque poi dopo vi torrò a giornate anche sulla questione parto. Se farò il cesare programmato, se farò l'induzione, se non credo di arrivare a termine. Perché il bambino è veramente grande e quindi mi hanno sconsigliato vivamente di arrivare a termine. E vi dovrò fare anche il video della valigia per il parto che non ho ancora fatto ragazzi. Cioè voi non capite io la premura che ho di dover fare questa valigia per il parto. Perché non so, cioè, è vero che adesso è presto ancora. Però è sempre meglio tenerla pronta per ogni emergenza. Ho solo i vestitini di Gabriele pronti che ho lavato e messo da parte. Preparato comunque il fasciatoio e tutto quanto. Però la valigia mia e sua ancora non è pronta. Quindi nei prossimi video sicuramente vedrete il video della valigia parto mia e di Gabriele. E niente ragazzi, adesso smetto di parlare perché devo assolutamente iniziare a fare qualcosa. E ovviamente vedrete tutto. Grazie a tutti. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi allora mi vedete qui nella camera a casa dei miei genitori perché come sapete ancora non ci siamo trasferiti nella casa nuova. I prossimi video comunque li vedrete tutti quanti nella casa nuova perché finalmente settimana prossima ci trasferiamo. Comunque mi vedete mi vedete in tenuta sportiva perché voglio parlarvi di una collaborazione bellissima che abbiamo intrapreso con il brand Oceans Apart. Ne ho sentito parlare tantissimo io su TikTok, ne ho sentito parlare tantissimo io su TikTok, che tantissime influencer sponsorizzavano questi prodotti. Però non essendo non ho mai, diciamo così, non ho mai acquistato nulla dal loro sito, anche se i prodotti mi incuriosivano moltissimo perché tutte quante le influencer ne ho sempre parlato benissimo. Ma ho scoperto che questi fantastici prodotti non vanno bene solo per le sportive perché come sapete io comunque sono incinta di 34 settimane. Ero un po' dubbioso effettivamente se accettare questa collaborazione o meno perché non è che stia facendo poi sport o che io comunque sia una sportiva incallita. Però ho scoperto appunto che anche avendo il pancione della gravidanza questi veramente sono fantastici capi di avviamento possono andare bene anche appunto a chi è in gravidanza. E sono molto contenta appunto di aver accettato questa collaborazione con loro perché adesso vi faccio vedere i set che loro mi hanno mandato. Ho trovato la taglia giusta per me in questo momento del mio percorso di vita, della gravidanza e quindi ho deciso appunto di parlarvene in modo assolutamente positivo qui sul mio canale. Ora vi farò vedere i set che mi hanno mandato e dopo vi darò la mia più onestissima opinione perché come sapete io sono estremamente sincera con voi e anche se decido di collaborare con un brand comunque do sempre la mia più trasparente opinione. Vi posso però anticipare che mi hanno dato un codice sconto, vi lascio comunque tutto scritto sotto nell'info box, codice sconto e mamma mary dove spendendo almeno 79 euro avete diritto a scegliere un altro set completo dal free gift chooser. Quindi avrete diritto appunto a un completo completamente gratuito spendendo almeno 79 euro sul sito di Oceans Apart utilizzando il mio codice sconto mamma mary. Inoltre potrete pagare anche comodamente con Klarna che è un modo comodissimo e sicurissimo di pagare a rate senza interessi, io stessa lo utilizzo su tantissimi altri negozi online ed è veramente molto comodo perché si può pagare appunto in tre rate senza dover appunto spendere tutta l'intera somma in una volta sola. Comunque vi lascio appunto tutto quanto scritto sotto con il link che trovate in descrizione. Allora ragazzi, questo set, vi lascio il nome scritto qui, è composto da questa magliettina bianca, come potete vedere io che ho la pancia, è comoda perché qui si può arricciare ma si può anche, come potete vedere, tenerla così slacciata. E l'effetto è questo qui, devo dire che è molto bella, molto comoda e il cotone soprattutto è veramente favoloso. Poi c'è anche il pantacollant, così, come vedete fascia benissimo la mia pancia di 34 settimane e fascia benissimo anche le gambe. E' un tessuto elasticizzato, così, e mi piace tantissimo perché qui sulla gamba c'è scritto il nome del brand. Questo è completo, bellissimi perché arrivano anche alla caviglia. Il set è composto anche da questo bra, che è questo top imbottito con l'elastico che però, come vedete, non stringe affatto perché ho preso la misura giusta per le mie settimane di gravinanza. E' molto bello perché fascia benissimo il seno, qua c'è il logo Oceans Apart e dietro, praticamente, è incrociato in questo modo. Comunque, come vedete, il set è veramente molto, molto bello. L'ho scelto di questo blu notte con la maglia bianca perché mi piaceva tantissimo e questo, quindi, è il primo set. Allora, questo è il secondo set di questo rosa antico. Anche qui c'è sempre la magliettina, però in questo set la maglietta è rosa. Le fascette qui che si possono stringere e che vi, praticamente, sottolineano e fasciano la vostra pancia. Oppure potete lasciarle morbide, così verrà una t-shirt più lunga e più comoda. I pantacollant, invece, sono sempre elasticizzati come quelli di prima e hanno il logo qui di Oceans Apart e qui, invece, il nome del brand, sempre sulla fine della gamba. È praticamente lo stesso modello di prima, fasciante sulla vostra pancia, ma non stringe perché, come vedete, è bello comodo. Fa parte di questo set anche il top bra, con sempre il logo del brand qui sull'elastico, che anche questo, come vedete, non stringe per niente. Il top è imbottito, quindi vi fascerà benissimo il seno, non sentirete dolore perché è veramente super avvolgente e morbido. Qui anche c'è il logo del brand, dietro è fatto così, dietro anche questo è fatto così, incrociato. E quindi questo, ragazzi, è il set in color rosa antico che io adoro tantissimo perché mi piace, soprattutto come è morbido, comunque, sulla mia pancia e sul seno. Ragazzi, è una cosa importantissima, condividete il più possibile questo video, mettete mi piace e lasciatemi tantissimi commenti che poi io, ovviamente, vi risponderò a tutte le vostre richieste e curiosità. Lascio comunque il link sotto in descrizione di questi due set che avete appena visto, se appunto volete acquistarli. Altrimenti, comunque, il sito veramente è pienissimo di set completi particolari, molto anche sfiziosi, di tantissime fantasie. E vi consiglio vivamente di dare un'occhiata al loro sito perché è veramente favoloso. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo la prossima volta in un nuovo video. Fatemi sapere, ovviamente, se acquistate questi prodotti di Oceans Apart. Vi mando un bacio grandissimo. Ciao!